Ma che boom di prezzo che stiamo vedendo sui mercati delle cripto qualcosa di totalmente inatteso no però comunque stupefacente perché veramente ragazzi siamo di nuovo ritornati a livelli che soltanto pochissime settimane fa probabilmente ci stavamo soltanto sognando. Pertissimi parlano di bolla di nuovo purtroppo forse alcune cose stanno mutando in questo momento c'è veramente tanta richiesta, tante persone che si stanno affacciando nuovamente al mercato delle cripto potremmo essere in effetti nuovamente in bolla di speculazione ma questo magari lo vedremo in un prossimo video andando ad analizzare i nostri soliti grafici. Nel video di oggi ragazzi voglio parlarvi a braccio per darvi le mie regole e le regole che secondo me vi salveranno la pelle nel prossimo futuro su come seguire il rialzo dei mercati in cripto come seguire bitcoin nei prossimi mesi. L'avvento della volatilità porta anche di conseguenza ragazzi massimi su massimi a TH e tutta quella che è la fanfana dell'entusiasmo ma porta anche estreme difficoltà a chi si affaccia a questo tipo di investimenti per la prima volta perché c'è un sali e scendi continuo ragazzi anche un po' a livello emotivo si resta fondamentalmente toccati quindi seguire i mercati delle cripto in questo momento può risultare estremamente complesso abbiamo bisogno di alcune regole abbiamo bisogno di alcuni trucchetti che secondo me possono essere veramente veramente utilissimi per chiunque voglia stare su questo toro scatenato nei prossimi giorni come possiamo gestire al meglio questa situazione attuale questa nuova fase di enfasi sui mercati delle cripto senza lasciarci le penne e soprattutto senza perdere questo treno perché poi è quello che ci interessa maggiormente andare sui mercati gestire bene questo momento respirare avere anche il sonno tranquillo e non perdere assolutamente il treno cripto in questa fase e queste tre regole ragazzi saranno un po' una panacea per il prossimo futuro prima di andare avanti come sempre io vi chiedo dei pollici ragazzi in su per sostenermi in questo momento che veramente ragazzi sto dando il massimo per aiutare più persone possibili in questa fase ancora lascio aperta la mia academy fino al 10 di gennaio veramente sono arrivate tantissime iscrizioni io sto facendo entrare tutti anche per dare il più possibile una mano in questo momento vi lascio il link in descrizione prima splendida regola dovrei essere un po' andare di nuovo nell'antica grecia per questa regola ragazzi questa regola è so di non sapere una regola socratica perché? perché è importante ricordarsi che quando vi affacciate ad un mondo nuovo come questo dei mercati finanziari che tra l'altro è un mondo estremamente complesso avere la presunzione ragazzi di essere arrivati con due ore di video che guardate online e quattro pdf gratuiti scaricati in rete è una follia quindi ricordatevi che ci vuole tempo per apprendere determinati concetti e questo tempo richiede un po' di sacrificio e di sforzo però questo non toglie che voi non possiate salire su questo carro semplicemente ricordatevi la frase so di non sapere stiamo sul treno accontentiamoci magari di quello che è la partecipazione e non la vittoria perché già questo è un grandissimo successo per tantissimi di voi cosa succede se non si applica questa regola ragazzi succede un meccanismo di natura psicologica che vi porta a pensare che con una singola operazione che magari vi è andata bene perché avete applicato due o tre regolette poi siete diventati campioni del mondo un po' come ragionare e dire ho vinto un incontro di pugilato a scuola e sono diventato Mike Tyson nella stessa cosa quello che è successo magari ad alcune persone che magari mi hanno scritto tantissimo tempo fa perché un po' feccando di presunzione hanno deciso che bitcoin per esempio fosse arrivato al target price e hanno deciso di chiudere bitcoin intorno ai 12.000 se non sbaglio insomma diverse persone mi hanno scritto ragazzi tra i 10 e i 10.000 moltissimi hanno chiuso ragazzi questo è il classico problema dovuto proprio a questa regola cioè alla mancanza un po' di umiltà perché si ci pone nei confronti del mercato a dire ok adesso è arrivato al target perché io so che qui c'è il target ricordatevi che il mercato ne sa sempre più di tutti noi non c'è nessuno che ne sa di più del mercato e allora seguiamo il mercato ragazzi e arriviamo alla seconda regola il mio payoff del canale trading on ragazzi ormai ho fatto anche le maglie con la scritta trend is your friend stampatevelo in testa è un mese che dico a tutti sul canale trend is your friend perché voglio farlo diventare un mantra di quando avete i dubbi di quando vi salgono in mente delle idee strampalate che avete letto nelle community che ovviamente insomma gira di tutto e di più ragazzi trend is your friend chi mi ha sentito già a dicembre prima di dicembre dicevo questa cosa chi mi ha seguito in questo caso ragazzi anche negli anni sa quanto è importante questo mantra ragazzi proprio perché il mercato ne sa più di tutti noi perché il mercato è tutti noi messi insieme seguite sempre il trend questa regola non vi deluderà mai ragazzi perché se voi volete stare su un treno che corre veloce dovete stare seduti in prima classe con le cinture allacciate non potete andare a buttarvi dal finestrino se questo trend è ancora in corsa perché voi state immaginando che si sta per fermare e poi va dietro è solo frutto delle nostre paure del nostro problema a gestire questa volatilità ragazzi e soprattutto della carenza della conoscenza del mercato perché ci vogliono anni per sviluppare questa conoscenza del mercato ragazzi se arriva il trend della vita lo stiamo vedendo in questo momento e vivendo con bitcoin bisogna starci sopra perché poi si perde quel treno lì che non passa più ragazzi per questo noi applichiamo il mantra trend is your friend e sono tre anni ragazzi trading conf a tre anni farò un video per il compleanno sono tre anni che dico questa cosa dal primo giorno mio su youtube lo dico ragazzi per tanta esperienza sulle spalle e adesso vi mostro un grafico e vi faccio rivivere una storia la mia storia di tantissimi anni fa quando ero giovincello proprio proprio giovane che avevo iniziato questo mondo ragazzi vi porto con me su questo grafico e vi faccio vedere quello che succede a non far trend is your friend allora ragazzi questo è il 1999 barra 2000 e questo è una nuova azienda che è stata appena creata e da pochissimo inizia a cercare di sfondare nel commercio elettronico questa azienda si chiama amazon nel 2000 cosa fa? fa questo bellissimo trend bolla speculativa dei mercati finanziari sulle nuove tecnologie arriviamo a un apice a 120 dollari dopodiché il titolo amazon inverte facendo questo break della barra di congestione vedete questo break qui in questo giorno qua inizia il suo trend al ribasso neanche tanto pronunciato ma badate bene ragazzi quel giorno fu data per spacciata questa azienda molti iniziano a dire ok amazon non funzionano questi mercati hanno fatto una truffa e tutto quello che c'era da dire fa il doppio minimo nel 2002 inizia una fase di trend di ripresa a questo punto moltissimi dicono esco perché adesso ritorno a scendere questa è la gamba C della gamba B della gamba F di Elliot e tutto il resto io esco perché ho previsto il futuro ragazzi se non che questo trend incomincia a macinare continua continua a macinare siamo nel giugno del 2003 il trend continua a macinare ma siamo vicini ai massimi quindi vicini ai massimi come lo eravamo su bitcoin pochissime settimane fa cosa si fa? eh beh usciamo perché sicuramente i massimi non li può superare nel frattempo vedete che bella barra che fa qui erano tutti fuori ma il trend è continuo ragazzi perché poi rompe la sua barra di congestione nel maggio del 2007 testa di nuovo i massimi storici continua a fare questo trend su e giù su e giù ma non inverte mai ragazzi perché per invertire un trend bisogna rompere il minimo precedente quindi anche questo è un minimo superiore questo trend non ha mai invertito dal 2001 la sua fase continua a salire continua a salire ma io prendo profitto perché sono convinto che questo mercato non va più ragazzi l'esito lo sapete siamo a 3182 questo significa seguire un trend ragazzi nessuno sa dove finisce un trend rialzista se lo seguivate stavate ancora dentro e il più grande fautore del seguire il trend è un certo nonno tizio Buffett Warren Buffett ragazzi quindi facciamo questa cosa fate come Warren Buffett seguite il trend ok ragazzi questo è un esempio pratico ne trovate decine e decine trend is your friend ma trend is your friend significa che il trend non cambierà mai che sarà sempre positivo che si salirà sempre non è così arriviamo alla terza e ultima regola che è quella operativa ragazzi è quella che vi dà la strada da seguire quelle due stampatevele in testa so di non sapere trend is your friend ma poi arriviamo alla terza regola questo trend di bitcoin prima o poi finirà ragazzi questa è una certezza il problema è quando è lì arriva veramente la chiave di volta come gestire questa fase sui mercati finanziari se non sappiamo quando finisce però la terza regola vi dice una cosa ricordatevi che questa giostra finirà comunque ragazzi quindi nel momento in cui andiamo a prendere le nostre decisioni per seguire questi mercati io mi metto su questo treno so che devo approfondire le mie conoscenze seguo comunque il trend ma sono consapevole che quel trend prima o poi finirà e allora indirizzate tutte le vostre energie le vostre risorse mentali la vostra perseveranza il vostro tempo a disposizione nell'unica cosa che vi cambierà l'esito di questo evento momento storico di bitcoin ragazzi l'unica cosa che vi cambierà l'esito di questo evento sarà la capacità di scendere dal treno quando il treno starà per cambiare direzione e questa cosa la apprendete soltanto attraverso la formazione ragazzi non c'è nessun altro modo analisi tecnica e formazione perché è fondamentale ragionare in termini matematici in termini di dati sulla mano e non emotivi a sensazione mi sento dentro che siamo arrivati ho fatto anni fa un video del genere ragazzi ve lo ripeto qui il mi sento che siamo arrivati non esiste nel mondo sono frutto solo di sensazioni di paure personali non c'è il quarto senso il sesto senso il quinto senso non c'è ragazzi ok non badate a queste fesserie andate a guardare i grafici seguite il trend se volete scendere nei tempi giusti da questo treno e cavalcare il toro fino a quando è possibile dovete formarvi la regola numero 3 è quella che deve concentrare la vostra attenzione ragazzi in questa fase se riuscite a ragionare così ragazzi se riuscite ad approfondire la terza regola riuscite sicuramente a gestire bene questa fase ma poi c'è un trucchetto se io vedo in versioni di trend ve lo dirò comunque sul canale youtube il prima possibile al video successivo bene per oggi è tutto quindi abbiamo visto le tre regole fondamentali per seguire cavalcare il treno bitcoin nei prossimi mesi fatemi sapere anche voi cosa ne pensate e soprattutto qual è la regola che vi viene più difficile applicare scrivendomela come sempre nei commenti perché magari la possiamo approfondire perché no in un video successivo va bene ragazzi ciao a tutti ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti